E' dal 1929 che faccio questo mestiere, ma c'è ne degli altri che sono risultati resistenti come me? Da noi cosa aspettate? Delle vittorie, noi dobbiamo lavorarmi per dare delle vittorie, il resto è tutta frantomaglia, è tutta roba che non ci interessa. Mio padre mi disse stai attento, i coglioni sono cari a tutti i prezzi, allora io ho cercato di andare d'accordo con chi un coglione non era. La Ferrari non è un mito, la Ferrari non è un fenomeno, la Ferrari è un'azienda governata, difesa e va avanti perché raccoglie tanta tanta gente di buona volontà. La Ferrari è fatta soprattutto di uomini ed è per questo che continuerà il suo cammino anche dopo di me. State tranquilli, non abbiamo niente da chiedere a nessuno, abbiamo da attenderci tutti da mani amiche come quelle dell'Ace, anche se non arriveranno. Se non arriveranno, noi siamo contenti lo stesso. Le Ferrari, roba sua, ieri e per qualche verso ancora oggi, anche se non c'è più, anche se la Ferrari è un'altra cosa. Ma chi sceglie il rosso, resta dentro questo uomo, visto o raccontato non importa. Ferrari, l'ingegnere, il commendatore, il grande vecchio, duro, abile, ruvido, con dolori e amori, confessati solo in parte, con un carattere tutto spigoli e lo stomaco per tritare lutti, nemici e tradimenti. Con la sua voce, i suoi vezzi e le sue voglie, con un figlio morto presto e un altro, riconosciuto tardi, con i suoi complici e i suoi soci di Torino, tenuti a distanza, in minoranza. Un uomo che gridava, dimenticatemi, per farsi ricordare, intanto scriveva tutto, correggeva la vita propria altrui, con la sua penna dall'inchiostro viola. Uno che parlava di donne, solo a tavola, in privato. Donne che in questa storia, all'apparenza, non ci sono, e che invece ci sono state, ci sono sempre, e fanno, disfano, cambiano le cose. Un uomo difficile, fedele a se stesso, alle proprie auto, alla propria saggezza grezza, con dentro un che di contadino, di padano. Il resto guai, neanche a parlarne. Modena, Maranello, Maranello, Modena. Una vita con pochissime curve, uno stile di un altro tempo, e per questo presente sempre, tramandato a schegge, noto anche a chi, di Enzo Ferrari, ne sa poco o niente.